Allora siamo arrivati alla seconda chance che vogliamo dare ai nostri ospiti Li facciamo stare qua? Sì, possono farlo da seduti? Possono farlo in posizione Allora, Annoni ed Arcare Allora noi adesso vi faremo commentare Avete la possibilità di diventare teleconisti Vi facciamo commentare un breve spezzone di partita E quindi il pubblico potrà giudicare chi di voi può diventare teleconisti Da chi cominciamo? Annoni direi Annoni e che partita deve, che episodio deve fare? Il gol di Samuel dell'Inter Il gol di Samuel dell'Inter Quindi Inter-Siena Allora è chiaro che tu non so se l'hai vista ma non me ne frega niente È chiaro che i teleconisti mica vedono l'azione prima Prima di commentarla Quindi tu vedi l'azione e adesso devi commentarla Allora dammi il via Allora devi fare il teleconista E dove la vede l'azione? Dove la vede lui? Dove la vedi? Alla sua sinistra Alla tua sinistra, qua la vedi allora Ok, andiamo Pronti? Via, da teleconista perfetto Vai Ecco l'Inter sta cercando di attaccare Sono gli ultimi minuti della partita Pandev, Samuel Sinistro gol Grande azione, un difensore che è andato a fare l'attaccante Murigno ogni tanto questi colpi li ha E gli è andato bene Oggi gli è andato bene Va bene, questo era il primo Io mi vergoglio per lui Comunque era il primo Va bene Allora vediamo il secondo Vediamo Allora che Arcari che partita ha? Il gol di Lucarelli Il gol di Lucarelli Il gol di Lucarelli in Livorno-Parma Allora sei pronto? No Allora mettici più enfasi che puoi Va bene Via le immagini Vai Attenzione Livorno Cerca di ripartire Con un giocatore sulla fascia Chi è? Avanza Mette la palla per Lucarelli Attenzione Lucarelli Lucarelli Gol Gran gol di Lucarelli Ce l'ho fatta a calcio Vai E no Niente Sono confuso Ce l'ho fatta a calcio Il capitale Livorno Va in rete Grandissimo gol del capitale Gesulta sotto la sua curva Vediamo l'azione Forse era in fuorigioco No Eccoli la piazza Da paola e portiere C'è nulla da fare Molto bene Allora a pubblico Allora Votiamo Con urla E E applausi Prima per Anoni Sei andato bene Molto bene Votiamo per Arcari Allora Allora Arcari diventa Telecronista di Sky Allora da sabato Fai la prima telecronica Del campionato russo Zenit Rubin Kazan Preparati Perfetto Allora Noi che però Siamo magnanimi Non vogliamo dare A tutti Vogliamo dare a tutti La possibilità Quindi Tu Anoni Potrai diventare Per questo Il nostro uomo Immagine Sky Potrai diventare La mascotte di Sky Mettiti Mettiti il vestito di Sky Devi ballare Esatto Adesso Mettiti il vestito di Sky Alzati Mettiti il vestito di Sky Perfetto Diventerai la nostra mascotte Dei centri commerciali Questo è il tuo futuro Aspetta un attimo Devi ballare Devi ballare No 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 Deve ballare Sull'inno di Sky Lo cantiamo tutti insieme L'inno di Sky Con la mascotte di Sky Che balla Partellino Vai con l'inno di Sky E forza Sky Per essere Senti Bravissimo No Stai Stai Bravi Siamo E forza Sky C'è il grande orgoglio in noi Di appartenere a te Ad una gente che Siamo Ora con noi Oh Molto bene Grazie Bravissimi Allora Subito Subito Colleghe